Vinciullo sceglie la via, in Sicilia non c'è Villeneuve, che scalda i cuori e… Vincenzo Vinciullo, deputato regionale di Alternativa Popolare, ci mette la sua per trasformare in un thriller le candidature alla presidenza della regione siciliana. Da Siracusa, dove risiede, affida ai tal presi il progetto alternativo del suo partito.Noi di Alternativa Popolare, ricorda Vinciullo, non siamo né per l'alleanza col centro-sinistra, né con il centro-destra. Non siamo subalterni a nessuno. Siamo pronti a discutere su come far partire la macchina amministrativa e solo dopo a individuare l'autista. Vincenzo Vinciullo si lascia andare ad un paragone sportivo, in Sicilia non c'è uno che infiammi gli animi come Villeneuve. Finora tutti gli uomini della provvidenza hanno fallito, spiega. I partiti, se vogliono occuparsi dell'interesse della collettività, devono prima dire come risollevare le sorti della Sicilia. Il presidente della commissione bilancio Allars conferma la linea del capogruppo di App Allars, Nino D'Assero, e sottolinea che il gruppo parlamentare di App spinge per candidare l'europarlamentare Giovanni Lavia. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps? Ciao!